Vittoria che ci voleva per Lennic Firenze accanto a me Lapo Salvetti dopo la sconfitta brutta di Lucca arriva una vittoria che comunque va in linea col percorso di vincere le partite in casa le ultime due. Sì, il risultato è molto importante perché noi riprendiamo a vincere, a Lucca avevamo fatto una brutta partita più che altro dal punto di vista dell'atteggiamento, oggi non siamo stati né belli né brillanti. I primi 15 minuti di Lennia sono stati molto bravi a tenere il ritmo basso, noi abbiamo fatto fatica a difendere poi abbiamo iniziato un po' a correre e poi l'abbiamo vinta in difesa vincendo al rimbalzo però è stato importante per noi giocare e giocare col giusto atteggiamento, difendere, prendere rimbalzi che sono le cose che questa scuola qua deve fare. Ascolta Natale in testa, comunque giocando una ripresa di grande intensità interpretando anche meglio la loro zona che nel primo tempo vi aveva comunque messo in difficoltà, vi aveva perlomeno spezzato il ritmo. Sì, sì, ci pasticciavamo, quindi sicuramente abbiamo mosso la palla in maniera un pochino più ordinata anche se i problemi di falli di Marotta ci hanno veramente creato difficoltà perché Nardi era fuori per un infortunio e quindi abbiamo dovuto inventarci un po' dei quintetti. Siamo contenti, abbiamo fatto 12 vittorie, siamo primi in classifica, dobbiamo continuare a lavorare dobbiamo continuare a pensare che questa scuola qua è una scuola giovane e che ancora deve esprimere tutto il potenziale perché io vedo i ragazzi in allenamento e credo che loro ancora debbano continuare a migliorarsi perché possono farlo. Oggi Passoni ha fatto un bel secondo quarto dove ci ha dato la possibilità di rientrare Catarsi che non gioca mai però è entrato 5 minuti e ha fatto un canestro abbiamo tanti ragazzi che possono farci fare quel salto di qualità e secondo me se lavoriamo in allenamento lo possiamo fare. Oggi Puccioni è dominante però ha giocato una partita di grande solidità e ti aggiungo anche i problemi di falli di Zani e Temo che hanno condizionato il secondo tempo si sono ritrovati a metà secondo tempo senza due giocatori chiave. Senz'altro, Puccioni è stato molto bravo, convive con problemi alla schiena che gli impediscono di allenarsi con regolarità ma oggi è stato molto bravo ad andare sotto, andare a cercare di colpire legnaia dove c'era vantaggio perché Temo aveva problemi di falli e soprattutto era acciaccato, perché era visibilmente acciaccato Temo. Anche il quarto falo di Zani ha un pochino aperto la strada per il break di terzo-quarto. Devo dire che il quarto falo di Marotta gli ha permesso a loro di entrare perché altrimenti... però nel complesso Puccioni bene e se riuscisse ad allenarsi con regolarità speriamo che con questo Natale togliere il dolore alla schiena e nel 2016 recuperando anche Santomieri come dovremmo... lo affrontiamo con fiducia.